Nonostante questo caldo respiro ancora e questi due semplizzoni continuano a insistere perché io faccia queste trasmissioni. Allora l'argomento è che il Consiglio Comunale ha deciso, o sta per decidere, c'è stata una proposta da parte di un consigliere che bisogna mettere delle dichiarazioni di antifascismo e hanno chiamato in ballo il Matteotti per il Comitato Carnevale o per altre cose, in modo che se uno fa una operazione deve mettere anche la dichiarazione che è antifascista. A me piacerebbe prendere il signor Olivieri e guardarlo nelle palle degli occhi. Ma secondo il signor Olivieri basta una dichiarazione sono antifascista? Quando a Roma tutta la sua baracca di sinistra sta facendo e creando tutti i presupposti perché venga il fascismo in questo paese, perché anziché continuare a sbegotare, a disquisire che uno fa la cosa di sinistra e l'altro non è di sinistra, che le cose di sinistra non sono quelle lì, per me le cose di sinistra è la Corea del Nord, la Corea del Nord dovrebbe andare quella gente lì, oppure a Cuba, ma perché non vanno in Cina? Quello è il comunismo vero, è perché uno non deve fare una dichiarazione che è anticomunista, dopo tutto quello che è successo, solo antifascista. Al di là di questo, io sono convinto che in questo paese, con questo andazzo, la Lega per conto suo, il Movimento 5 Stelle per conto suo, Berlusconi con i suoi cagnotti e la sua... quegli altri che va a sinistra, D'Alema che... Renzi del Bamboccio, Prodi che vuol far fargli la passe, ma i dischi del Bamboccio e lui che vuol fargli la passe, il Pisa Pia de Mia... tutta gente che parla con lo scritto davanti. Ma ragazzi, se volete fare e combattere Renzi, quello parla a braccio ragazzi, parla a braccio senza scrivere la parola, tutti questi chicchi scrivono. Io credo che questa confusione ci sia stata quando Benito Mussolini è andato al potere, è perché oggi non c'è un Benito Mussolini, io sono convinto che se oggi ci fosse un movimento con a capo un tipo come Benito Mussolini, come del resto nel Movimento 5 Stelle che Grillo, pensate che Grillo fosse, anziché Grillo un tipo che ama la democrazia, eccetera, eccetera, fosse uno tipo Benito Mussolini. Ah, il colpo di Stato era bello che è fatta, è lì che disquisisse in consiglio comunale di arco e poi perché anziché pensare ai giardini che gli è uno schifo, anziché pensare al Sanaclero, anziché pensare all'asilo Nido, anziché pensare all'oratorio, anziché pensare a Pravi, eccetera, 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 ho la dichiarazione antifascista. Olivieri, non ci siamo caro, il fascismo bisogna combatterlo in un'altra maniera, con i fatti, bisogna fare cose serie, la gente stufa delle cia, cia e re.